Scusi, guardi, le chiedo un'opinione, va bene? Mi guardi bene? Ma no, dove guarda? La bocca, gli occhi, l'espressione del viso. Mi dica sinceramente, lei mi trova molto brutta? Oh, d'accordo, non avrò vent'anni, ma non ce n'ho nemmeno sessanta, santo Dio! Vabbè, eccezionale, magari no, non c'era un'altra fica, ma non ce n'ho nemmeno un cesso, siamo giusti, non è che? Ho anche le cosce lunghe, se sì, a loro modo, sì, me l'hanno detto, me l'hanno detto una volta, lei c'ha tre palmi di cosce, ecco, guarda, guardi qui, uno, due, è un pochetto, insomma, due palmi e quattro dita. Ora mi dica lei, ma posso piacere anch'io, ma posso sentirmi libera anch'io, avere uno straccio di amante anch'io, alla fine essere abbandonata, al piacere, insomma, in fondo la carne è debole, lo dicono tutti.